nella puntata di ieri del grande fratello vip giampiero mughini ha abbandonato la casa non ne ha parlato con i suoi equilini questi giorni ma con gli autori ad annunciare infatti il suo abbandone è stato alfonso signorini il quale livella e tre spettatori la decisione presa dal giornalista il conduttore infatti nel corso della ventesima puntata ammette di non aver voluto fermare questa decisione di giampiero considerando anche la sua età solitamente alfonso tende a insistere anche a far riflettere chi pensa di abbandonare la casa ma invece con giampiero non è accaduto ma qual è il vero motivo per cui mughini ha lasciato la casa più spiata d'italia riguarda un suo progetto lui stesso infatti lo spiega in diretta televisiva che a breve uscirà un nuovo libro che considera come un figlio ed è come se in questo momento lo stesse attendendo questo è il motivo per cui ha deciso di abbandonare la casa di cine città prima del previsto molti però fanno notare che ancora prima di entrare in gioco giampiero sapeva che c'era questo libro in sospeso che avrebbe dovuto concludere entro la fine dell'anno come lui stesso ha dichiarato infatti conclude il suo percorso grande fratello dicendo così al 75 per cento conto una cosa di cui mi dovete perdonare c'è un libro che devo consegnare entro dicembre a questo libro non posso rinunciare questo libro è giunto all'ottavo mese io vi chiedo scusa per me dolorosissimo ognuno di voi è attesa a casa mia per pranzo e così come vediamo da questa immagine lascia la casa e quindi